Lavoriamo solo a mano, quindi facciamo dentro di un urano autentico come una volta, quindi ogni pezzo viene fatto singolarmente, utilizziamo solo attrezzi, quelli consentiti per questo tipo di lavorazione, senza macchinari. Senza macchinari, e il Davide è il nostro... Non abbiamo la sabbia, silice, soda, calcio e potassa, quindi viene importato. Poi aggiungiamo anche degli ossidi di minerali per colorare il vetro. Quindi tutto questo avviene dentro i forni, durante la fusione si avvia una reazione chimica che praticamente fa vetro colorato secondo che minerale veniva aggiunto. Quindi per esempio cobalto per il blu, rame per il verde, eccetera, eccetera. Buona visuale, buona visione. Potete fare le foto qui, però quando poi andremo nelle sale di esposizione, purtroppo non si possono più fare le foto. Da un po' abbiamo adottato questo sistema per proteggere un pochino i nostri disegni, i nostri modelli, anche perché sono veramente molto belli e non vogliamo che vengano imitati. So, hello everybody, non sono a disposizione per voi per oggi, però nelle sale di esposizione forse c'è qualcosa ancora da ieri, se volete vedere più vicino, toccare. Perché adesso qua è meglio non toccare perché è davvero molto caldo. So, questo è il sistema Ferrari horse. È molto facile, non è così? È takes 10 anni per imparare questo, quindi immaginate, no young men willing to learn this profession, so I think when your grandchildren or children will come here, they won't find our factory making this beautiful demonstration any longer. I hope it lasts 10 or 15 years, but... Also, sehr einfach, eh? Take the last pictures, and then we go to the showrooms. If you have something to ask, I will stay at your disposal. Oh, no 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 no